Si approva la mozione. Procedo come da programma alla lettura della mozione conclusiva di questo 31esimo congresso nazionale dell'Associazione Nazionale Magistrati. L'ANM all'esito del dibattito congressuale si riconosce nei principi affermati nella relazione introduttiva del Presidente. Ribadisce la necessità del recupero di una forte responsabilità istituzionale nel segno del rispetto verso la giurisdizione e la magistratura come condizione irrinunciabile per le buone riforme che restituiscano alla giustizia piena qualità, tempi ragionevoli ed efficacia nell'interesse dei cittadini. Va riaffermata la centralità del processo come luogo di realizzazione dei principi di legalità attraverso la tutela dei diritti e l'accertamento delle responsabilità. Roma, 27 ottobre 2013. Roma, 28 ottobre 2013. Roma, 28 ottobre 2013.